Da studente non ci pensavo lontanamente di fare l'ufficiale pilota, l'ufficiale d'aeronautica. Il mio desiderio era quello di laurearmi in ingegneria elettromeccanica. Allora c'era questa facoltà all'università. Senonché una sera mio padre, rientrando a casa dal lavoro, mi disse guarda mi hanno fatto dono di questo biglietto per andare a volare all'aeroporto dell'Ettorio, l'attuale aeroporto dell'Urbe. Dice io non ci vado, ci puoi andare te? Dico sì, ci andrei molto volentieri. Il mattino di una bella domenica prendo l'autobus e vado all'aeroporto dell'Ettorio. E lì mi misero su un aeroplanino direi quasi lillipuziano perché mi pare che era la S1, una faccenda di questo genere. Aveva due posti e il pilota davanti o di dietro era in tandem, il pilota e il passeggero. Beh, devo dire sinceramente che già con l'alzarsi dell'aeroplano, il vento sulla faccia, l'accostarsi alle nubi, e lo scorrere sotto di Roma, porca miseria, dico ma questa è una bella cosa. Mi prese un tale entusiasmo, un tale slancio che arrivato a casa disse a mio padre, papà, io dico vado in accademia aeronautica. Dice ma come? Dice che ti puoi laureare in ingegneria? No, 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 vado in accademia aeronautica. E così, passata la visita di controllo al ministero dell'aeronautica, fatto idoneo, con i pianti di mia madre e non certo l'entusiasmo di mio padre, nell'ottobre del 1931 entrai in accademia aeronautica. Allora l'accademia aeronautica era nel palazzo reale di Caserta e il mio corso fu l'ultimo corso dei quattro anni. Erano due d'allievo, uno da aspirante e un altro da sottotenente. La dizione esatta era sottotenente allievo.